buongiorno a tutti e benvenuti in questa prima puntata di ammazza che show un programma che anche un format ma soprattutto un talk nel quale 32 ragazzi hanno avuto la possibilità di intervistare alcuni personaggi quindi entrare in contatto con loro e di raccontare un pezzo della loro vita. 32 ragazzi delle scuole superiori di Alessandria, Galilei, Plana, Ilvolta e l'Alexandria e tutto questo all'interno del progetto PCTO. Questo è un progetto che da anni l'ufficio scuole diocesi di Alessandria porta avanti in collaborazione con le scuole e che quest'anno ha dato inizio a questa prima puntata. Ma Riccardo come funziona questa prima puntata? Sì allora alcuni di noi come ho detto avranno l'opportunità di intervistare alcuni personaggi provenienti da diverse realtà quindi personaggi diversi tra di loro e queste interviste saranno intermezzate da un video che servirà per spiegare a tutti voi il percorso che abbiamo vissuto insieme. Tra le personalità avremo uno scrittore, un medico, un fisico, un calciatore professionista e due ragazzi della comunità Cenacolo. Ok direi che è arrivato il momento di iniziare quindi accomodiamoci qui all'angolo interviste perché subito dopo la sigla inizierà la prima puntata di Ammazza che Show! Grazie! 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 L'amore è la vera forza di cui si fa garante la comunità Cenacolo che punta al servizio gioioso e alla condivisione sincera. Questa speciale comunità da anni si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà e i giovani che non hanno ancora trovato il loro percorso di vita e i bambini per strada. Qui con noi oggi abbiamo due rappresentanti della comunità Cenacolo Dino e Simeon che appunto ci faranno l'onore di raccontarci la loro esperienza e di darci un po' uno spaccato della loro vita e del loro percorso con cui appunto sono entrati in contatto con la comunità Cenacolo. Partirei chiedendovi appunto qual è stato il vostro percorso, la vostra vita e come appunto siete entrati in contatto con la comunità Cenacolo. Allora, diciamo che io ho cominciato a conoscere le droghe leggere inizialmente a 13-14 anni quindi a fine della terza media, prima superiore. Quando mi sono reso conto ormai a 46 anni che avevo distrutto per l'ennesima volta il mio lavoro, la mia relazione, tra cui con una bambina che adesso ha 13 anni, Giulia, e diciamo ho detto basta, devo fare qualcosa, non posso andare avanti e trovarmi andando avanti in futuro in una situazione così precaria. E allora ho scelto la Cenacolo ma non l'ho scelta perché la conoscevo, mi è stata fatta conoscere. E in tutto quello che portava a questa comunità io sentivo che c'era qualcosa che poteva aiutarmi e quello che mi ha aiutato poi adesso, essendo qui in questo momento che posso avere anche la fortuna di poterlo raccontare, è stato quello, la verità, il vivere la vita con gioia nella semplicità, il dialogo con i fratelli e la condivisione e soprattutto il chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Diciamo il sentirci tutti alla pari, ha fatto sì che anch'io potessi vivere con gli altri senza dover manifestare quella mania di competizione o di avere qualcosa in più dell'altro. Avevamo solo tante povertà, ognuno di noi e quindi la cosa bella era proprio questo, cioè riuscire a anche accettare ciò che dentro di me mancava, che era l'insicurezza, la paura, la timidezza, l'essere povero in tante cose e quindi ho scoperto una famiglia che mi ha accettato e che mi ha dato la possibilità di vivere in serenità e con gioia. Che bello, grazie. Io ho un percorso di vita molto diverso di quello di Dino, molto diverso anche di tanti altri giovani in comunità. Sono entrato a 18 anni e io nella mia vita per esempio non ho mai fumato, non sono mai stato in contatto con le droghe o con l'alcol e queste cose qui. Però non toglie niente al fatto che anch'io mi sono ritrovato completamente perso da solo, con tante ferite dentro che non sono mai riuscito a tirare fuori, sulle quali non sono mai riuscito a mettere delle parole, che mi sono tenuto dentro, che hanno iniziato a mangiarmi da dentro. Tutto questo mi ha portato a rinchiudermi su me stesso e a chiudermi nei videogiochi, nei computer, nel gioco in linea, poi più tardi anche nella pornografia, ma tutto l'ingresso di internet e sono completamente caduto dentro e la mia via di fuga, la mia scappatoia, il mio modo di gridare un po' al mondo diciamo che stavo male, è stato quello. Grazie a Dio sono entrato presto, sono entrato grazie a mia madre che ha avuto il coraggio e sicuramente anche il dolore grande di mettermi di fronte a quello che ero diventato, quello che stavo per diventare e che mi ha detto guarda Simeone o entri in comunità o vai per la tua strada, con poche parole, mi buttavo un po' fuori da casa e per me a 18 anni è stato un colpo duro, nel senso che stavo cominciando a lavorare, i primi soldi che entravano, pensavo ad avere tanti amici, di consulire la mia vita e di un colpo a mia mamma ho buttato tutto per sera, anche poi dopo è stato molto più grande bene, però questo è un momento che mi ha fatto a scattare dell'accettare di entrare in comunità è stato proprio questo, che mi ha messo da mente a chi ero diventato e che mi ha obbligato a guardare me stesso, a non guardare più negli altri, se ne prende appunterebbe il detto negli altri e dire se sto così colpa di mio papà, colpa di Dio, colpa degli amici, colpa della scuola, colpa di tutto, però io sono la vittima e invece lo facendo così è proprio davanti allo specchio, adesso ti mordi e diventi consapevole di quello che sei e fai nel meglio per cambiare, come sono andato in comunità e questo è un grande cammino che ho iniziato, sono tre anni e sento ancora di essere solo ai primi passi, sento che ancora tanto da cammino. La fisica è un argomento per molti ignoto e oscuro ma noi ne abbiamo voluto parlare lo stesso con un particolare riferimento ai giovani. Diamo il benvenuto a Lucio Rossi in collegamento con noi, professore ordinario alla Statale di Milano ma soprattutto attivo al CERN dove ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs. Iniziamo subito con la prima domanda, molti studenti trovano difficoltoso lo studio della fisica. Può darci dei consigli per aiutarci? Allora, c'è un aspetto diciamo leggere cose generali, anche introduzioni, cose di divulgazione aiuta molto perché la divulgazione fa vedere la bellezza della fisica e quindi quando uno vede una cosa bella è attirato. Il bello è questo, è ciò che attira, un ragazzo vede una bella ragazza o viceversa, viene attirato. Però poi non basta, bisogna anche innamorarsi, un'altra cosa. In questo caso innamorarsi della fisica vuol dire anche avere la capacità di studiare. Insomma, noi tutti siamo portati in certe cose, quindi non è che se uno non gli piace la fisica o non è capace in fisica va male in fisica, per forza di cose non nullità, anzi tutt'altro. Cioè noi tutti abbiamo certi doni, però i doni vanno come esplorati, cioè uno può avere un dono e se non si applica non si manifesta. Infatti se voi siete ragazzi è come uno, gli piace una ragazza, ma se non la corteggi questo qui non si manifesterà mai. Quindi ci vuole anche la perseveranza, anche nell'amore ci vuole a volte la perseveranza eccetera e quindi ci vuole questa capacità di dedicarsi. Vedete, sono parole che si usano poco, ma sono le parole vere. Perseveranza, dedicarsi eccetera, sono le cose vere, perché le cose è lo stesso, non c'è riuscita nella vita, ma anche nella vita professionale o anche nella vita sentimentale, senza queste parole. Dopodiché ci sta il fatto che uno può apprendere di più di meno, usa il certo più apportato di meno, questo va accettato perché vuol dire che uno è più apportato in un'altra cosa piuttosto che in un'altra. Tanto il valore di noi non è misurato da quanto siamo capaci di fare una cosa, però la possibilità di esprimersi in quel ramo lì sì, è anche un po' dato dal dono di natura che abbiamo. Quindi non esistono cose preconvezionate, non è che tutti devono riuscire alla stessa maniera, e tutti devono riuscire alla stessa maniera, ma uno non deve neanche pensare per il fatto che non riesce al momento di non essere portato, dobbiamo vedere nel tempo, insomma. Quindi non so se vi ho risposto, ma bisogna alla fine dobbiamo vivere la vita fatta. Sì sì. Noi sappiamo che ha lavorato al CERN, e com'è cambiata la sua vita dopo la formidabile scoperta del Bosone Dix? Beh, intanto è cambiata perché tante persone come voi mi chiamano, per esempio, sono stato chiamato molte volte a parlarne, già col fatto di essere nato al CERN, prima quando ero in Stato di Milano nessuno mi è capitato di parlare, ma molto poco. Poi va al CERN e allora diventi, per esempio pensi sia importante, invece io sono sempre lo stesso di prima, però mi sono fatto ad andare al CERN, poi appunto quando è partito l'LHC, è stato un po' al centro, c'è stato un grosso incidente, c'è stata la televisione, quindi sì, tante persone. Poi con il Bosone Dix è stato un successo mediatico, adesso si è un po' a favorito, ma è stato un successo mediatico molto forte, per i CERN, per il nostro tipo di fisica, eccetera. Quindi sì, tante volte mi hanno chiamato, ho cominciato a girare l'Italia, veramente letteralmente, perché sono stati in tantissimi posti a parlarne, eccetera. Molto spesso scuole, oppure piuttosto che Rotary Caro, o altri tipi di conferenze. Beh, mi ha aiutato a riflettere, perché non sempre mi porta a riflettere, fa come voi, adesso parlando con voi io in questo momento rifletto. Niente fa meglio che non essere interrogati, l'interrogazione è sempre pura a scuola, e invece essere interrogati, farsi interrogare aiuta, perché è sempre un dialogo, è sempre una riflessione su se stesso, che è diverso da quando uno pensa da solo, almeno per me. dialogare è un momento di riflessione più profondo, o diverso da quando io penso da solo. E quindi questo qui sì, mi ha cambiato molto, mi ha portato a riflettere più anche sul mio lavoro, sul valore del mio lavoro, e il legame tra il mio lavoro e quello che io penso nella mia vita, i miei valori, eccetera. Quindi devo dire verità, in genere dico di sì, e se appena posso quando vengo chiesto, anche appunto fosse la scuola, forse anche un ambito piccolo, eccetera, perché nel dialogo scopro di più me stesso, e quindi il mio lavoro. Quindi lo faccio non per dare agli altri, ma per dare a me stesso, che è la maniera migliore per dare agli altri. e quando ho convinto di guadagnarci lui, da allora anche gli altri. Il Bosone di Higgs viene definito anche particella di Dio. Ne conosce il motivo? Sì, beh, allora il motivo concreto è molto semplice, perché è stato chiamato particella, perché c'era un famoso scienziato premio Nobel americano che scrisse un libro sul Bosone di Higgs, quando ancora non era stato trovato, e voleva chiamarlo The Goddard Particle, la particella maledetta. Gli americani dicono Goddard per dire maledetto, ma insomma così non è una parolaccia. e invece l'editore, perché non la si trovava mai, non si riusciva a catturarla, e invece l'editore del libro, il publisher, disse no, non Goddard, Goddard Particle, ma così viene più bello, è così importante che aveva particella di Dio. Quindi il nome per cui è stato dato particella di Dio è perché, diciamo così, per una questione pubblicistica quasi, per vendere un libro meglio. però in realtà adesso, detto permesso che c'entra poco, però in qualche maniera, come sempre l'immaginazione popolare non sbaglia completamente, perché nel concetto della creazione quando diciamo Dio crea, cos'è la cosa che vediamo? La massa. Certo Dio crea la luce, e fu la luce, che è una cosa immateriale, però poi uno fa di fatto, siamo corpori, facciamo coincidere, il mondo sì con la luce, ma anche con le cose, con la massa concreta. Allora il Bosone di Higgs è responsabile, diciamolo così, in maniera un po' semplicistica, della massa che abbiamo, cioè la massa, la massa della materia non esisterebbe, non che non esisterebbe la materia, non esisterebbe la massa, quindi il peso in qualche maniera, delle particelle, quindi di noi stessi, che noi siamo parte di particelle, senza il Bosone di Higgs, e a questo compito, per questo è così importante, a questo compito fondamentale di spiegare l'origine della massa, sostanzialmente, di Bosone di Higgs. e quindi in qualche maniera è legato al concetto, e dà la massa, quindi fa quello che fa Dio, in qualche maniera. Quindi, premesso che da budista veramente concettuale, filosofico, non c'entra, però, diciamo così, immaginativamente non è poi così sbagliata l'espressione, è per indicare semplicemente che è veramente una particella, in tutto il panorama delle particelle, sono tante le particelle fondamentali, sono 48 e più Bosone di Higgs, diciamo, quindi sono tante, tant'è vero che molti pensano che non sia il livello ultimo, perché sono troppe, però in questo momento sono tante, sono 24, ma possiamo contarle come 48, più Bosone di Higgs, quindi sono, praticamente, vedo di ciò, con un posto molto speciale, ecco, in questo senso, non è poi così sbagliato, in un certo senso, a chiamarla particelle di Dio, se con questa parola vogliamo intendere che è molto importante. Cosa può e non può dirci la fisica? Si possono trovare delle soluzioni a problematiche etiche? Io non penso, penso che le questioni etiche siano risolte a livello etico, a livello morale. la fisica offre dell'opportunità, come il mio mondo, la fisica è lo studio del mondo, in sostanza, la fisica, anche in senso greco, sono le cose, appunto, fisiche che esistono, materiali, controposto alla metafisica, quindi il mondo è come uno scenario su cui ci siamo, su cui si innesta una cosa meravigliosa che è la libertà dell'uomo, che però è veramente, in un certo senso, la libertà dell'uomo è veramente qualcosa che va al di là delle leggi fisiche, le leggi fisiche non contengono libertà, le leggi fisiche sono lì, immutabili, eccetera, e quindi l'aspetto della libertà è qualcosa di misterioso, uno può pensare che la libertà non esista e che sia il frutto, l'apparente libertà è solo il frutto di reazioni chimiche del nostro cervello, rilascio, non penso che sia così, ecco, penso che invece la libertà sia un dono incredibile, e la libertà genera la possibilità di compiere delle scelte, e quindi compiere delle scelte, le scelte hanno tutto lo stesso valore e quindi da qui sorge il problema etico, quindi non penso che la fisica possa risolvere il problema etico, quello che la fisica può fare, come tutte le scienze, eccetera, è offrire delle soluzioni o degli usi, degli utilizzi, che sono lì per essere vagliati, come ogni cosa deve essere vagliata, come, diciamo, qualsiasi cosa può essere usata, quasi qualsiasi cosa, probabilmente può essere usata per il bene o per il male, quindi non penso che la fisica possa, per dirla a forza, possa aiutare a risolvere problemi etici, se non offrire un ventaglio di soluzione a un problema etico, in cui però poi la scelta dell'uomo, la scelta dell'umanità è sempre fondamentale ed è basata su criteri che vanno al di là della fisica, nella fisica il concetto di buono o di bene non mi sembra che ci sia, c'è un po' il concetto del bello, perché nella fisica c'è un aspetto di bello così, ma non l'aspetto di buono, ecco questo qui, però noi sappiamo cosa vuol dire essere buoni, che abbiamo con delle persone buoni, però non mi sembra sia contenuto nella fisica, dovrei rifletterci di più, però non mi sembra così di primo fisico. Abbiamo detto che lei è credente, come si riesce a conciliare la fede con il suo lavoro da fisico? Tanto vorrei dire, non c'è bisogno di conciliare in senso stretto, io faccio il fisico e penso ad avere il dono della fede, che molto difficile giudicare se stessi. devo dire che anche l'errore, la vicenda dell'errore, ma anche altre cose mi interrogano e cerco di capire se è vero o no che Dio esiste, che appunto si è incarnato, eccetera. Quello che posso dire è che nel mio lavoro vedo che non mi sembra che ci sia contraddizione, non c'è prova, la fede non può essere provata dalla fisica, dalla scienza, provata, ma non può essere neanche disprovata, alla fine viene tutto lasciato alla mia libertà. Torniamo, se vogliamo, al discorso prima, adesso il discorso che va al di là dell'etica, perché è veramente metafisico, però insomma è legato, ma è lasciato alla mia libertà sostanzialmente. Io dico per fortuna, perché se è lasciato alla mia libertà, se la fisica non può, perché la fisica non potrà mai provare che una cosa non esiste, in senso assoluto. Molto semplice, perché anche lì c'è l'origine del mondo, la fisica non la prova mai, perché la fisica è sempre qualcosa che dipende da qualcos'altro, poi questo qualcos'altro poi dipende da qualcos'altro, ma alla fine uno deve dire o il processo è infinito oppure hai avuto inizio. Ma anche se è infinito, è come dire che quello è Dio, cioè può dire che una cosa esiste da sempre, è come dire che Dio, è la definizione di Dio nella nostra concezione. quindi non è una cosa razionale, niente è razionale nel senso che è comprensibile veramente da ragione, però io trovo che la ragione, quindi la fisica, può portare alla soglia di questa scelta e il fatto che porti alla soglia di questa scelta e che la scelta rimanga a mia disposizione, alla mia libertà, mi sembra che mi convinci un pizzico di più di una cosa che ho già convinto a priori appunto dell'esistenza di Dio. Che vuol dire esistenza di Dio? Vuol dire che noi siamo l'immagine, deriviamo in sostanza da un qualcuno che ci ha voluto, da un qualcosa di personale, non siamo figli del caso, non siamo figli della meccanica quantistica, perché questa è la definizione del Dio nostro, cioè è l'origine personale, vuol dire che qualcuno mi ha voluto. Mi sembra che sia confacente a quello che vedo questa ipotesi, questa è un'ipotesi, però mi sembra che sia confacente a quello che vedo nella fisica eccetera, ma c'è tanto spazio per la libertà, capisco uno che invece dice no, no, non c'è nulla. Quello che però chiedo a gran voce, perché questo è quello che a volte ho smentito, è che però anche l'ipotesi che invece ci sia è altrettanto degna e ragionevole. Sono due ipotesi ragionevoli che in realtà devono scontrarsi sul fatto che alla fine la decisione è lasciata la libertà. Il fatto che sia lasciata la libertà mi sembra dimostrare, mi sembra quasi la cosa che fa, perché la vedo così ovviamente, che faccia prendere la bilancia dal fatto di dire no, ma questa libertà non può saltare fuori dalla meccanica, quindi dalla fisica, è il segno, è come dire il segno che l'origine è qualcosa di più grande di me, ma che è personale. Insomma, in favore a queste libertà deve essere segno di una libertà più grande, con l'L maiuscola, che è appunto quella che chiamiamo la libertà di Dio, cioè l'onnipotenza, che vuol dire che l'onnipotenza è la gratuità, vuol dire che noi siamo creati gratuitamente. Potete anche non farlo, ma l'ha fatto, è una scelta. Quindi è una cosa un po' complessa, non so se vi ho risposto, però quello che voglio dire semplicemente è che nella mia esperienza vedo che non c'è contraddizione, non devo conciliare. Se nella mia esperienza vedessi che lo dimostra contrario non avrei dubbi, alla fine bisogna seguire sempre la verità, però mi sembra che quando metto tutti i fattori, mi sembra che i fattori per credere siano più grandi quelli che non credono. E quindi mi sono nella mia vita, lungo la mia vita, con alti e bassi come tutti, perché la libertà non è appunto non è una cosa meccanica, se no saremmo dei robot. Voi pensate, se la fisica potesse dimostrare Dio sì o no, vuol dire che la verità è a disposizione dei robot, è una cosa meccanica. mentre questa roba qui è così chiama, ci vuole qualcosa che appunto che non è robotica, è la nostra libertà. Quindi mi sembra una cosa, è uno dei temi più affascinanti che c'è secondo me. Ringraziamo Lucio Rossi e continuiamo con il nostro... Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qui. Adesso è arrivato il momento di intervistare uno sportivo che ha contribuito la scorsa stagione calcistica a realizzare un grande sogno per la città di Alessandria e infatti dopo 46 anni l'Alessandria Calcio è tornata in Serie B. Oggi siamo qui con Matteo Pisseri, il portiere dell'Alessandria. Benvenuto Matteo. Ciao, grazie, buongiorno. Buongiorno. Ok, sì, allora vorrei iniziare chiedendoti chi è il tuo calciatore preferito. Ovviamente sei un calciatore preferito e magari sei qualche preferenza di qualche squadra sia italiana che non, ovviamente. ma, diciamo, il mio calciatore preferito che adesso non gioca più è Zanetti perché l'ho sempre apprezzato sia come giocatore che come uomo, sempre un uomo composto che non è mai, diciamo, voluto apparire che ha sempre guardato il bene del suo club, della squadra che poi era l'Inter, ovviamente. E poi anche la tenacia che aveva in campo e i risultati che ha ottenuto in carriera. Sì, sì, lo penso anch'io. Anche per me è uguale. E invece riguardo alla squadra? Ma la squadra, ovviamente, cioè, giocando, giocando, ovviamente, non ho altra squadra che se non l'Alessandra e quelle per cui ho giocato nel momento in cui ci giocavo, ovviamente, la squadra precedente adesso è solo l'Alessandra. Va bene, grazie. Sappiamo che la tua passione principale quindi è il calcio e al di fuori del calcio hai qualche passione, qualche hobby, qualcosa che ti piace particolarmente fare? Ma, eh, mi piace ogni tanto qualche, diciamo, riguardare le nostre partite oppure altre partite del nostro campionato o anche di altri campionati e poi mi piace, mi piace comunque stare anche magari fare una passeggiata fuori, stare in mezzo alla natura, ecco. per cui quando c'è magari, ne approfitto quando c'è una bella giornata, così, per fare anche una passeggiata fuori. All'aria aperta. All'aria aperta, esatto. Non da chiudersi il calcio, ecco. Sì, sì. Non sono un gran amante dei film, serie tv, playstation, ecco queste cose. Videogiochi, quindi nulla. No, 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 no. Eh, riguardo a questo, abbiamo un po' provato a cercarti sui social, ma non abbiamo trovato nulla. Non hai social, cosa ne pensi, diciamo, un po' sui social in generale? Ma, eh, non... Sì, è stata una cosa, diciamo, non ho social, è stata una cosa abbastanza naturale, non ho mai sentito la... la necessità, ecco, di... di averli. Per cui... per cui non ne sento la necessità e non... per cui non ho fatto la scelta di non, ecco, di non... di non averli. Però, come tutte le cose, se... dipende sempre l'utilizzo che ne fai, però non... ecco, non ho... ecco. Per me, ecco... cioè, per come la... io non sento la necessità, per cui non... Sì, sì, sì. Non l'ho... non l'ho fatto, ecco. Beh, giustamente. E... diciamo, parlando sulla fede, sulla religione, ehm... dal tuo punto di vista, cosa ne pensi? Qual è il tuo pensiero? Abbiamo visto che... sei... fedele, diciamo, religioso, e... cosa ne pensi anche della chiesa, un po', in generale? Ma, penso che... ci sia un po' una... una... una visione sbagliata, adesso, del... di quello che... di quello che è Dio, di quello che è la chiesa. Ehm... perché... viene rappresentato come un... come un... l'uomo contro Dio. Invece... per come... per come... per come la vedo io, per come credo io, per come sento io, Dio è con l'uomo. Per cui... vuole il bene dell'uomo, non ci toglie... non ci vuole togliere niente, non ci vuole togliere libertà, ma... ma ce la vuole dare. Anzi, ci... ci insegna come essere felici su questo... su questo... su questa terra che ha creato Lui. Ci ha dato, diciamo, la ricetta, poi... e... spetta anche all'uomo, con le sue fragilità, i suoi... ecco... e cercare di... di vivere bene in questo... in questo mondo, ecco. Ehm... però ecco, adesso... purtroppo c'è questo... viene rappresentato come... come... un Dio che vuole... che vuole togliere all'uomo. Invece Dio vuole dare. E così anche la chiesa. Purtroppo ci sono esempi anche... negativi, come dappertutto. Ehm... come... un po' quando capita magari che ne parlo con i miei compagni, e che mi dicono... ma la chiesa, il prete, questo, quell'altro... e lì dico... scusa, ma allora quei giocatori che si sono venuti... allora fanno bene i tifosi che... che non vengono per lo stadio, perché c'è qualche giocatore che si è venuto alle partite, ma non sono tutti così. Bisogna vedere gli esempi... esempi positivi. Ce ne sono tanti. Io personalmente ne ho conosciuto anche uno che si chiama Padre Pancrazio, che mi ha dato un esempio di vita e di... quindi... un esempio di vita è quello che... ecco... dell'amore di Dio. Per cui... ci sono gli esempi positivi, vanno seguiti quelli e non quelli negativi, ecco. Perché c'è tanto bene. Poi... la chiesa è come una madre che ti... ti insegna a vivere tramite i sacramenti. I sacramenti, la confessione, la comunione, la messa e... queste... per cui... ecco... la penso così. Grazie. Quindi questo ti ha anche aiutato a crescere, magari in momenti difficili, abbiamo saputo, abbiamo visto che hai subito un infortunio abbastanza grave, ti ha aiutato anche questo, magari a superarlo? Ma... eh... sì, sicuramente. Sicuramente. Poi sai, avevo... quando ho avuto questo... questo infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo, un anno e mezzo. Per cui è stato un momento difficile della mia vita. Però avevo comunque 17 anni, per cui a quell'età lì magari non ti rendi bene conto. Però col senno di poi, ripensandoci, è stato un momento anche per fermarmi e riflettere e capire che non è tutto... non è tutto scontato, ma la vita a volte ti mette... ti mette contro... ti mette di fronte ostacoli che... che vanno... uno deve cercare di... di superarli, ecco. E dopo... e dopo questo... mi ha tolto magari qualcosa inizialmente a livello calcistico, ma mi ha dato come... penso come uomo, e... e alla fine anche come calciatore, perché... in campo... in campo non ci va... non ci va... cioè... c'è un uomo prima che il calciatore, ecco. Sì, sì, sì. E... sempre riguardo alla fede, ehm... hai parlato che... hai detto appunto che... hai avuto qualche confronto, magari con qualche tuo compagno, quindi... ehm... la religione... com'è vista nell'ambito calcistico, un po' in generale? ehm... diciamo un po' come... come percepita... penso... è un po' fuori, ecco. Come... come accennavo prima, un po' che... che viene vista come un... un insieme di regole da... ehm... da rispettare. invece... 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 non è così. ehm... anche purtroppo per i modelli che... che... che vengono dati dalle... dalle... dalle televisioni, dalle serie tv soprattutto, che... sempre lo stesso modello dove viene messo... diciamo... Dio contro l'uomo. invece... invece... non è così. ehm... per cui... ehm... volevo anche aggiungere questa cosa che... ehm... la cosa principale è... quando... quando magari mi dicono... ehm... ma... un po' contro... contro... contro la chiesa, contro... ma dico... ma iniziamo noi a fare qualcosa di... inizia tu... inizia... iniziamo noi, inizio io, inizi tu... ehm... a dare l'esempio... invece che... che guardare sempre gli altri... se miglioriamo noi, poi magari... migliora... migliora... la società, ecco. Beh, sì sì... giusto. ehm... un'ultima domanda... ehm... inerente al calcio... hai qualche obiettivo? ehm... per il futuro... ehm... che... non so... sei magari... seguendo o qualcosa che... ma... ehm... intanto adesso... una cosa vitale... di vitale importanza per... ehm... per la mia carriera... e per... ehm... per la società, per la città, per tutti quanti... i compagni, il mister... tutta la salvezza... è mantenere la categoria... per cui veramente mi... è un... è un pensiero che mi... che mi... mi porto... dietro tutto il giorno... giorno e notte... per cui... e poi dopo... a fine anno... ecco... questo so che è di vitale importanza per la mia... per la mia carriera... poi a fine anno si... si vedrà... ecco... progetti futuri ancora non... adesso penso a ottenere il massimo della mia carriera... poi vediamo... ecco... ehm... ti ringrazio per... per questa intervista... e ovviamente ti auguro il meglio a te e all'Alessandria... e... e... grazie... e forza Inter... questo l'ha detto lui eh... Cercando su internet... abbiamo ritrovato questa frase... che secondo noi può descrivere in buon modo... il lavoro di un neuroiabilitatore... quando le persone parlano di riabilitazione... di ricovero... si ripensa a ritornare al sé del passato... ma tornare indietro non è possibile... eh... si cambia... ci si reinventa... alla fine si diventa una persona diversa... rispetto a quella iniziale... e... sarà proprio di questo lavoro... che andremo a trattare... insieme al dottor Luca Perrero... primario eh... del reparto di neuroiabilitazione... all'ospedale di Alessandria... e anche geriatra... buongiorno... 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 la prima domanda che vorremmo fargli... è appunto di sintetizzare un po' di quello... di che cosa si occupa... e da dove è nata questa passione... si... allora... la neuroiabilitazione è una nicchia... di un ambito già abbastanza specifico... eh... la riabilitazione in sé... eh... come potete immaginare... tratta dal bambino... alla persona anziana... e dalla parte neurologica... quella ortopedica... cardiorespiratoria... quindi... è veramente un po' il tutto... cioè tutto ciò che è menomazione... si traduce in disabilità... da disabilità in handicap... e tu combatti contro queste tre cose... nella fattispecie... la neuroiabilitazione di terzo livello... che è quella che... ehm... faccio io con i miei colleghi al borsalino... ha due patologie mirate... eh... che sono... gli esiti... di coma... quindi gli stati vegetativi... gli stati a minima coscienza... e gli esiti di trauma midollare... quindi le paraplegie... e le tetraplegie... ehm... che cosa mi ha portato... a questo... beh... un po' il caso... come sempre... è un po' la passione... eh... nel senso che... ehm... vabbè... il caso fino a un certo punto... perché io... abitavo sul stesso pianorotto... di una ragazza disabile... e... e mi capitava... così... nelle pause di studio... di andare a trovarla... e a chiacchierare... e mi sono reso conto di come... la diversità... poi... eh... è solo nella nostra testa... perché... andando avanti un po' a scavare... si parlavano assolutamente... delle stesse cose... che parlavo con l'amico... con cui giocava pallone... piuttosto che... andava a sciare... e poi... ehm... io... specialista in geriatria... a un certo punto... partecipo a un concorso di fisiatria... perché le specialità erano equipollenti... e... entro... come primo impiego... in un reparto di riabilitazione... geriatrica... ehm... agli smontonotte... andavo all'università di Genova... a... per prendere la seconda specialità... eh... tant'è vero che ho fatto... sei più quattro... più quattro anni di università... e... eh... una volta... ehm... specializzato anche... in fisiatria... non mi sono accontentato... ho detto... però... non mi interessa solo la parte geriatrica... ma anche la parte più... neuro-riabilitativa... e... sono entrato in un reparto di neuro-riabilitazione... dove queste due patologie erano imperanti... nasceva... l'ospedale Borsalino... eh... e poi da lì ho fatto un po' la mia strada... con questo genere di pazienti... eh... ci puoi parlare magari... in un caso... un caso particolarmente difficile... che ha dovuto affrontare nella sua carriera? eh... dunque... va beh... intanto... fortunatamente... quando si lavora in reparto... non si è mai da soli... cioè... si affrontano i casi... eh... con gli altri colleghi... con gli altri medici... eh... i collaboratori... con gli infermieri... con i fisioterapisti ovviamente... nel nostro ambito... e con i logopedisti... e... e poi anche con... eh... lo psicologo... tant'è vero che... il modello che... eh... inizialmente era chiamato... multidisciplinare... poi è passato a interdisciplinare... per cui tutti insieme... si interagisce... per cercare di risolvere i problemi... della persona che... che... che ti si presenta... al ricovero... eh... i casi... diciamo che... nel reparto si distinguono un po' in due caratteristiche un po' diverse... in una... eh... e poi parlo di due casi magari specifici... una sono persone che escono dal coma... e... e che... eh... dallo stato vegetativo... pian pianino... eh... si cerca di far di tutto... per stabilizzarli... e farli tornare per il più possibile... alla... alla coscienza... e questo è un tipo di paziente... eh... un altro tipo di paziente... eh... eh... sono le persone con lesioni midollari... e sono persone che... come le altre... ma in maniera assolutamente cosciente... si trovano a non poter muovere le gambe... o addirittura talvolta... non può muovere le gambe... e neanche le braccia... e di questo c'è un caso in particolare che... eh... mi rimane... sempre nel cuore... più che... più che... che dal punto di vista scientifico... perché poi... alla fine... eh... studiando tanto... alla fine le cose diventano anche... relativamente semplici... un ragazzo di 17 anni... che ha compiuto 18 anni nel nostro reparto... che per un incidente... è rimasto paraplegico... eh... ed è stato particolarmente difficile... per l'età... e per la forza che aveva sto ragazzo... perché era un atleta... oltre che uno studente di liceo... ma più di tutto... per come è riuscito a reinventarsi... all'inizio dicevate quello... eh... e proprio a sposare il nostro modello... che è... recupero e rieducazione funzionale... si cerca di recuperare quello che è recuperabile... ma talvolta non c'è... non c'è di recuperabile... allora rieducazione funzionale... insegna a fare le stesse cose in un altro modo... quindi con questo percorso di riabilitazione... si può giungere sempre... a un risultato positivo... oppure certe volte non si giungono... non si giunge a un risultato vero e proprio... allora... ha un risultato positivo... si... eh... bisogna vedere che cosa si intende per risultato positivo... cioè... è un concetto che io insegno sia ai fisioterapisti che agli studenti di medicina... una cosa è la menomazione... una cosa è la disabilità... una cosa è l'handicap... la menomazione per farla semplice... non nella parte neurologica... è l'amputazione di gamba... non crescerà mai la gamba... però la menomazione si può coprire con un ausilio... un arto sostitutivo... e questo la disabilità la riesci a coprire... e coperta la disabilità riesci a rispondere all'handicap... cioè una mancanza di arto... è una menomazione... che cosa porta? a non poter camminare... non poter camminare cosa porta? a non andare... dove ti fa piacere andare... leggasi allo stadio... in discoteca... all'università... la menomazione non la curi... ma non la curi neanche neurologicamente... perché non puoi far ricrescere le cellule cerebrali... la disabilità sì... con un arto sostitutivo... piuttosto che con degli esercizi... per imparare con il cervello e la plasticità cerebrale... a fare le stesse cose in un altro modo... a quel punto poi l'handicap lo copri... sia con la riabilitazione... che con l'abbattimento delle barriere... sono stato un periodo in Svizzera... dove... mentre facevo lo stage... mi hanno portato in ferrovia... dicendo questo è l'evento sanitario dell'anno... e io dicevo... ma come... ma cosa mi portate? ecco... tutte le banchine del treno... tutte le banchine della stazione... arrivavano all'altezza del treno... quindi per dire... quello vinceva la disabilità... e la menomazione... poi è evidente che... c'erano altre cose estremamente affascinanti... più attaccate alla persona... tipo le protesi elettronico-meccaniche... la robotica eccetera eccetera... però la disabilità la curi anche... con interventi ambientali... quindi... risultato positivo? Sì... dipende che cosa sentete per risultato positivo... questo ragazzo... faceva già tante cose... prima di rimanere paraplegico... però... ha iniziato a fare una serie di cose... quale parapendio... ne ho un altro paziente... che ha cominciato a girare il mondo... facendo una sorta di Lolly Planet... per disabili... e quindi ha detto... io ho fatto molte più cose... da quando sono su una sede a rotelle... che precedentemente... e quindi anche la porta d'anno è importante... è fondamentale... lo state of mind è fondamentale... riuscire a resilienza... poi adesso ci sono tanti modi per chiamarle... però... la caparbietà... e in quello noi dobbiamo accompagnare il paziente... è assolutamente fondamentale... non lasciarsi andare... anche se la situazione non può essere recuperabile... dal punto di vista... strettamente clinico... strettamente anatomico... parlando sempre dei pazienti... è importante per loro avere un sostegno familiare? è... nuovamente fondamentale... io faccio sempre alcuni esempi... che magari conoscete tutti... non so... se siete molto giovani... Schumacher era un pilota di Formula 1 eccezionale... che... dopo che... che ha passato una vita andando ai 300 all'ora... è caduto in montagna... e... ed è andato in coma... in stato vegetativo... dal coma si esce sempre... si muore... si è mai stato vegetativo... è andato in stato vegetativo... ed è rientrato a casa... perché aveva grossi potenzialità economiche... ma... una grande famiglia che lo sosteneva... quindi la famiglia è fondamentale in queste cose... altrettante persone con disabilità molto minori... purtroppo non rientrano in domicilio... perché... la società porta molti nuclei familiari... a essere monopersona... ecco... e questi... purtroppo... hanno più difficoltà a essere reinseriti nella società... quindi la famiglia... che ci sia innanzitutto... e che siano persone... ovvero... adesso scusate il termine magari romantico... amorevoli e presenti... è assolutamente fondamentale... perché... abbiano la capacità di capire che cosa bisogna fare... noi li istruiamo ovviamente... e... facendo una domanda invece più personale... più legato appunto al suo amore... verso questi due ambiti... della neuroreabilitazione e della geriatria... cos'è che la rende più soddisfatto... alla fine di una giornata di lavoro... ma... allora... io ero... un po' a metà... tra un secchione e uno sportivo... quando... perché... giocavo a pallone... sciavo... e... però avevo dei voti abbastanza buoni... quasi... a volte li nascondevo... perché sennò non ti faceva troppo... però... avevo una media molto alta... e quindi mi si potevano aprire parecchie cose davanti... poi a un certo punto ho pensato... ma... anche questo continuare a rincorrere la competizione... ecco... se io nella vita... avessi fatto... e poi sono stato fortunato di averlo potuto fare... qualcosa che mi piace veramente tanto... e che può aiutare le altre persone... sarei stato soddisfatto... a prescindere dai risultati... e questo è stato una... non dai risultati sul paziente... ma anche dai risultati carrieristici... quindi... questo mi ha fatto pensare che... aiutare il prossimo... come fare il medico... era una delle... delle spinte maggiori... ed è quello che... mi ha portato a... alla fine a scegliere questa professione... guardate... io vi assicuro che... eh... quando... non so eh... madre Teresa Calcutta a un certo punto... le hanno chiesto... ma lei come mai... fa tutto questo... un intervistatore... e... e lei rispose... ma sciocco... lo faccio per me... aiutare le persone... ti dà grande soddisfazione... quindi... questa è una delle ragioni principali... per cui... uno fa una professione... dove si interfaccia con l'altro... e cerca di aiutarlo... compatibilmente... con le proprie capacità... e... e quello che ti si presenta davanti... infine... un'ultima domanda... se ha qualche consiglio da dare... a noi studenti... che vogliamo approcciarci... a questa materia... la medicina? ah... intanto è bellissima... cioè... cioè... fatelo... cioè... è chiaro che poi deve piacere... però... ma... allora... ehm... bisogna... innanzitutto... superare il test di ammissione... siamo pragmatici... ehm... il test di ammissione... è abbastanza... severo... con una cattiva traduzione dell'inglese... severo... è veramente duro... ehm... chi fa materie scientifiche... è favorito... bisogna... prima di tutto... superare il test... però... non è neanche impossibile... basta... studiare bene le quattro materie... ehm... avere delle strategie... e... sicuramente si può superare... lo dico anche da papà di una... figlia che è entrata a medicina l'anno scorso... il primo anno non è entrata... ho detto... non ti preoccupare... continua... e... e... alla fine è entrata l'anno successivo... quindi innanzitutto... quello... ehm... ehm... dopodiché... ecco... ehm... ehm... avere la consapevolezza che... dove... vai a finire... dove vai a finire... perché il test è nazionale... ehm... usare a volte anche... dei corsi di aiuto... per entrare a medicina... non c'è nessun problema... o vergogna a farlo... e... dopodiché... niente... metterci tanta passione... e si entra... poi... vi dico... che sicuramente... studiare medicina... è... molto faticoso... nel senso che si studia tanto... ma lo possono fare... lo può fare chiunque... cioè... nel senso che non ci sono particolari materie... che non riesci a superare... mettendocela tutta... ecco... non è ingegneria... dove se tu proprio di matematica... leggasi... il sottoscritto... nonostante abbia fatto di ciò scientifico Galileo Galilei... proprio aveva una difficoltà pazzesca... io penso che analisi due... ingegneria... non sarei mai riuscito a superarla... ehm... invece medicina... basta studiare tanto... aver voglia di fare... fare qualche partita di pallone in meno... o farla la sera... o per le ragazze qualcos'altro... non so... o magari le stesse cose... e si può tranquillamente superare... e finirla in sei anni... basta superare il test d'ingresso... che è di nuovo molto duro... ma... si entra... basta studiare... va bene... la ringraziamo molto per questa intervista... e ringraziamo appunto il dottor Luca Perrero... e continuiamo con lo show... grazie a voi... mi piacerebbe dire a mia madre... ciò che mi serve veramente... quello che voglio per tanto tempo... non è stato semplice da dire... ho trascorso questi primi vent'anni di vita... a studiare le parole migliori per descriverlo... sino ad arrivare a una parola sola... una parola per dire quello che voglio veramente... questa cosa che mi porto dalla nascita... salvezza... questa parola non la dico nessuno oltre me... ma la parola eccola... e con lei il suo significato più grande della morte... salvezza... per me... per mia madre... per tutti i figli e tutte le madri... e i padri... e tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri... la mia malattia si chiama salvezza... ma come? a chi dirlo? o forse questa cosa che chiamo salvezza... non è altro uno dei tanti nomi della malattia... forse non esiste... e il mio desiderio è solo un sintomo da curare... a terrorizzarmi... non è l'idea di essere malato... a quello mi sto abituando... ma è il dubbio che tutto sia nient'altro... che una coincidenza del cosmo... l'essere umano come un rigurgito di vita... per sbaglio... abbiamo ascoltato una parte del libro... tutto chiede salvezza... del nostro prossimo intervistato... Daniele Mencarelli... volevamo incominciare con qualche domanda... la prima che sorge spontanea... qual è... cioè... cos'è la cosa che l'ha portato a scrivere? e... ma perché questo... questo brano in fondo riassume... e riassume quello che è il... motore della mia vita... ancora prima che della mia scrittura... il grande tema del... dell'uomo... dell'amore... della bellezza... come di... e... una... forza... un bene... creato... oppure il suo contrario... come qualcosa che è creato... che... che non nasce creato... che è increato... che nasce dal... dal caos... che nasce da... dall'errore si potrebbe dire... o dalla casualità... e... perché questo tema... e... mi sta profondamente... e... a cuore... e... ho trovato nella scrittura... prima poetica... poi adesso anche narrativa... poi anche con il teatro... il 26 aprile... e... c'è la prima teatrale di... che esco scritto io... e... diciamo che... parlare di questi temi... e... per me è importante... ho trovato nelle varie forme della scrittura... nella letteratura in primis... uno straordinario strumento... per rendere questi interrogativi... non... un mio... problema... o un tuo... o di qualcuno in particolare... ma... come... semplicemente... una materia di dialogo... rispetto alla nostra natura... e... pensate che approccio diverso... oggi... abbiamo rispetto a questi temi... un approccio individuale... singolare... e più delle volte... meccanicamente... e... patologico... che rimanda meccanicamente... ai temi della patologia... della malattia... dall'altra parte... invece farne quello che stiamo facendo... noi adesso... un meraviglioso... tema di incontro... e di scambio... e la letteratura... per me è stato questo... è stato un modo per estendere... oltre me... dei temi che l'uomo non è fatto... per vivere da soli... perché... viverli... da soli... può generare... tanti rischi... in primis... quello di essere solo noi... a vivere certi temi... e non è mai così... e il fatto che... viverli da soli... espone l'individuo... ad... ad alcuni sforzi... rispetto a certi pesi... come un uomo che da solo... vuole sollevare una macchina... e... certi pesi che devono essere condivisi... cioè... certi pesi vanno... e... certi temi... gravosi... vanno vissuti assieme... vanno condivisi... e lì il peso diventa più gestibile... diventa più umano... Sì... ehm... come abbiamo appena sentito... come abbiamo appunto appena sentito... ehm... nei suoi libri... è evidente l'importanza della ricerca della felicità... o della salvezza... ma... qual è la differenza tra le due per lei? no... ho fatto... mi hai fatto fare un fischio da... mi è venuto in mente un film... un vecchio film... che parlava di... diciamo... di un personaggio romano... ma non andremmo troppo oltre... e... a me la felicità... sul tema della felicità... io ho anche scritto... tanto... sui giornali... è un tema che tratto spesso... perché la felicità rischia di essere un grande equivoco di questa epoca... non che non esista... ci mancherebbe... e ci mancherebbe che un individuo non ha... un po' il diritto, dovere... di cercare per sé... la propria felicità... e che abbiamo un'idea... secondo me profondamente corrotta... dai consumi... rispetto alla felicità... e in un articolo che ho scritto... ormai saranno passati un paio d'anni... parlo di dittatura della felicità... e di un'idea di felicità che è profondamente disumana... e quindi... produttrice... suo malgrado... nostro malgrado... dell'esatto opposto... e quindi di infelicità... questo è... un po' il discorso... la salvezza per me invece è quello che... è quel grande tema... che... che ci interroga... e che si interroga... al di là del momento... io non so se... non mi interessa... non credo esiste... una felicità perenne... credo esista... una felicità da inseguire... che vive di sprazzi... vive di lampi... vive di momenti... che vanno conservati... che vanno difesi... che vanno condivisi... non credo esista... una felicità a questo mondo perenne... mentre... sono profondamente attratto... dall'idea di una salvezza perenne... l'idea di una salvezza definitiva... che è affrancamento anche... dalla felicità e dall'infelicità... cioè da qualsiasi... sentimento che ha... che vive... di contrari... di polarità positiva negativa... felicità e infelicità... soltanto per... rimanere... a questo tema... e... se pensiamo anche al tema della salute... e quindi... che ha la stessa poi radice etimologica... della salvezza... e oggi si parla molto di felicità... perché... tutto sommato... è un traguardo che l'individuo... sente raggiungibile per sé... e su cui... il mondo della comunicazione... e... ha lavorato tanto... proprio costruendo un ideale... un immaginario assolutamente pericoloso... e nessuno parla di salvezza... perché la felicità... e... attraverso i consumi... attraverso i corredi... che vengono forniti... tutto sommato... abbiamo costruito questo immaginario... che la felicità è raggiungibile... e invece... quando parliamo di salvezza... sappiamo perfettamente... che non ce la possiamo dare noi... e questa è la grande differenza... io posso essere... veramente costruttore... adesso anche in termini molto sinceri... molto lineari... io posso essere costruttore della mia felicità... o il contrario... posso essere costruttore della mia salvezza a questo mondo... ma se poi parliamo di una salvezza... che evidentemente si affranca anche da questo mondo... e io lì non arrivo... tu non arrivi... Angelo non arriva... e quindi... rimanda evidentemente... parlo della salvezza... a una... dimensione dell'uomo... non bastante a se stessa... mentre la felicità in fondo... ci raccontano che noi possiamo... attraverso le narrazioni che ci offrono... i prodotti che ci offrono... gli obiettivi... i traguardi... che ci mettono di fronte... in fondo ci raccontano che la felicità è possibile... perché è l'individuo che la raggiunge... la salvezza no... nel suo libro... sempre tornare... la parte principale del libro... racconta questo viaggio a piedi da Rimini ad Ariccia... e sembra quasi un racconto autobiografico... e la domanda è... lo è veramente? io l'ho fatto... ma... le parole... i sentimenti... in fondo l'epoca... che ci è data da vivere... come tutte le epoche passate... che sono state da vivere... sono state date in dono agli uomini... che ci hanno preceduto... e a quelli che verranno dopo... ogni epoca... trasforma... trasforma le parole... trasforma le lingue... trasforma le discipline... e ne introduce di nuove... noi viviamo... voi siete nativi digitali... noi siamo nati in un mondo analogico... e viviamo adesso in un mondo digitale... e... faccio tutta questa premessa per dire... come oggi sia... importante stabilire... cioè è nella... nel normale... ordinario confronto... con la letteratura... partire dal presupposto... e cioè... e... divisezionare il contenuto anche... in un'ottica biografico... non biografico... e questo... questa attenzione... questa curiosità che è sana... ci mancherebbe altro... e diventa... meno sana... quando diventa... quasi... come dire... come... diventa quasi morbosa... invece... come curiosità... e... un secolo fa... questa... questa domanda... sarebbe stata meno... probabilmente... meno... consueta... meno ordinaria... perché... perché alla letteratura... all'arte... si chiedeva ad essere... e... e si immaginava... si percepiva... e si amava... anche... come... elemento assolutamente... abbinghiato... intrecciato... alla vita... oggi invece... abbiamo... della letteratura... delle arti... quelle ancora che resistono... perché tante sono state... si sono fermate... che sono ferme... cristallizzate... al novecento... e... oggi invece... abbiamo un occhio... molto più analitico... su questi temi... in realtà... però... e poi ti risponderò... perché se no... sembra che non voglia risponderti... e... in realtà... però... non conta quello che... è accaduto prima... o non è accaduto prima... nella vita... dell'autore... dell'artista... perché questo... ha un'importanza... ha un'importanza assolutamente... ma neanche secondaria... quello che conta... e noi stiamo qui per questo... è perché... e... tutto quello che c'è stato... non c'è stato... tutto quello di vissuto... immaginato... sognato... o fantasticato... o ricordato... più o meno perfettamente... in realtà... ha prodotto una scrittura... che ha permesso ad altre persone... di fare un viaggio... questo conta... cioè... questo è l'elemento della letteratura... questa è la lingua... io poi... adesso ti rispondo... l'ho fatto quel viaggio... come in tutto... chiede salvezza... ho fatto il TSO... come il primo romanzo... ho lavorato per un anno... a bambini di Gesù... come operaio... addetto alle pulizie... quindi... i contentori... sono veri... ma poi... tutto quello che c'è dentro... vive di parole... e la parola... spesso... per essere più aderente... si deve allontanare... sembra un controsenso... ma va sicuro che non è così... nel suo libro... La casa degli sguardi... invece... lei parla di un evento... che gli ha cambiato la vita... la scena di una suora... che si prende cura... di un bambino sfigurato... con moltissimo affetto... saprebbe descriverci questa donna... con soli tre aggettivi... però se dovessi dirti tre parole... prima ti direi rotonda... perché era una donna... io me la ricordo... poi ero molto più giovane... e tanto più si è giovani... tanto più si vedono gli adulti... come più adulti... di quello che sono... oggi dico... nel mio ricordo... era una settantenne... magari sarà stata una sessantenne... molto rotonda... cioè proprio rotonda... come girovita... ma anche come rotondità... è morbidezza... cioè rotonda... c'è qualcosa che è... morbida... ecco... la seconda... secondo aggettivo... direi morbida... la terza... caratteristica... che ti darei è... rabdomantica... non so come altro dice... sai quelli che con... vanno... cercano l'acqua col bastoncino... in mezzo ai deserti... e però la... la casso io... mi faccio da editor... la... la boccio io... perché appunto rischi ad essere... troppo sentimentale... la terza è... visionaria... visionaria... perché rispetto alla realtà... che io percepivo... e vedevo... lei vedeva qualcos'altro... e questa visione... che lei ha avuto... rispetto a quel bambino... poi ha preso... ha attecchito... anche dentro di me... e quindi direi... rotonda... morbida... e visionaria... come abbiamo ascoltato... ci ha raccontato molto... della sua esperienza... di vita... in generale... ma... c'è qualche episodio... che non c'è ancora raccontato... che vorrebbe... renderci participe... ma... io ho vissuto tanto... c'è una statistica... del gioco del calcio... che io amo... spesso ricordare... che il tempo... effettivo di gioco... nel senso che... una partita... dura 90 minuti sempre... cioè una partita di calcio... è divisa in due tempi... da 45 minuti ognuno... e quindi ha una durata standard... che è uguale sempre... 90 minuti... però poi c'è questa... statistica meravigliosa... che il tempo effettivo di gioco... è il tempo in cui la palla... è effettivamente in movimento... e quello differisce... cioè questo quotiente qui... questa durata effettiva... differisce... io sono un uomo... che ha viaggiato pochissimo... nel senso... oltre l'Italia... però... credo di aver avuto una vita... in cui... ecco... questo quotiente... questa palla in movimento... c'è stata parecchio... e io tendenzialmente... avrei tanto da raccontare... non racconterò più di me... perché... o meglio... racconterò di me... continuerò a raccontare di realtà... di me... di quello che incontro... passando più per l'invenzione... però io ho vissuto... tanti incontri... che sono rimasti... ho vissuto cose che... faccio fatica a raccontare... perché sono poco verosimili... Aristotele diceva... si racconta... non si racconta il vero... ma il verosimile... e certe cose che ho vissuto... sono talmente strane... come succede nella realtà... perché la realtà è la sostanza... stupefacente... più potente che esista in natura... io le ho provate tutte... ma spesso la realtà... ti offre delle visioni... che sono... assolutamente... indecifrabili... indecifrabili... cioè ti chiedono codici... che tu non hai in quel momento... ti chiedono un lavoro... e non voglio essere truculento... ma... proprio racconto questa... che per esempio... finirà prima o poi... nei libri... una scena che è da ridere... un aneddoto... e... una notte di tanti anni fa... e immaginate... la via Appia Nuova... la grande via che... l'Appia era la grande via... la regina madre... che portava da Roma... dalla Roma imperiale... e... fino a Bari... dove poi... si imbarcavano per andare... a Gerusalemme... è stata una via... io mi sento molto legato a questa via... vivo ancora affacciato sull'Appia... io una notte... la ricorderò... per sempre... e immaginate... la via Appia... è una via d'alto scorrimento... parlo... non l'Appia Antica... l'Appia Nuova... è una via due corsie... è... sembra una superstrada... e immaginate... una fila incolonnata... di... almeno... 70-80 macchine... nella corsia di sorpasso... e questo uomo... con quelle macchinette... che vanno in giro... non macchinette... con quelle... quella specie di scooter... che utilizzano i portatori di handicap... ah sì... cioè quelle che hanno... ecco immaginate... questa scena... questo signore molto anziano... che cammina... in maniera assolutamente folle... sulla corsia di sorpasso... in mezzo alla corsia di sorpasso... e dietro... 80 macchine... c'è una fila sterminata... e nessuno che sorpassava... per un non meglio specificato motivo... ma neanche nessun colpo di claxon... e quindi... è una situazione da fratelli Cohen... io amo il cinema pure... e quindi... una situazione paradossale... e bizzarra... surreale... cioè di quest'uomo che cammina... in mezzo alla corsia di sorpasso... 8 all'ora... che ne so... 10 all'ora... e dietro questa fila infinita di macchine... che... per un non meglio specificato... inconsapevole patto... diciamo così... segue quest'uomo... e questa scena mi è rimasta... ve la racconto perché... appunto tante cose poi... rischiano di non essere... verosimili... ma sono assolutamente vere... io sono uno di quegli scrittori... che è affamato di realtà... proprio perché... alcune messe in scena... sarei folle... se pensassi di essere più bravo della realtà... a costruire teatri... a costruire scene... e vi ho detto la prima che mi è venuta in mezzo... come ultima domanda... ci tenevamo a chiederle... ci tenevamo a farle una domanda particolare... ovvero... quanto coraggio ci vuole secondo lei... per scrivere un libro? ecco... io ho consegnato il primo libro nuovo... che è un libro di invenzione... il coraggio non viaggia parallelamente con la quota espositiva di sé... anzi... spesso magari il romanzo di invenzione che si attesta... che si autodichiara di invenzione... chiede una quota di coraggio maggiore... perché chiede da affrontare qualcosa che non vive nella realtà... ma che fa male più della realtà... spesso l'autore nella scrittura affronta i propri demon... e quindi coraggio ce ne vuole... il dato biografico in tutto questo che vi sto dicendo... è sì importante... ma meno del coraggio di scendere dentro certi recessi del proprio io... e mettere in scena esattamente quello che terrorizza di più... coraggio è una... una di quelle grandi... virtù e capacità che l'uomo deve mettere in quello che fa... non solo nella scrittura... coraggio è una parola che è stata stravolta... distrutta dal novecento... ne abbiamo un'idea oggi molto maschile... molto violenta... no... coraggio è mettere cuore in quello che si fa... coraggio viene da cuore... e quindi mettere il cuore in quello che si fa è fondamentale... quindi ci vuole coraggio... come ci vuole coraggio a stare qui adesso voi... e Angelo... i tecnici... cioè coraggio è anche la passione che metti in quello che fai... io continuo a fare l'autore... a fare incontri... perché continuano a essere per me generatori di passione... il momento in cui non mi appassioneranno più... non mi vedrete più... sparirò... l'intervista si è conclusa... ringraziamo moltissimo... il nostro scrittore Daniele Mancarelli... e proseguiamo con le prossime interviste... e anche questa puntata è giunta al termine... hanno partecipato a questo progetto... costruendo pezzo per pezzo questa puntata... quattro gruppi di ragazzi divisi in... sceneggiatura, scenografia, regia e comunicazione... e ringraziamo tutti... è arrivato il momento di salutarci... e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di... Ammazza che show! forse vi starete chiedendo come è nato Ammazza che show... bene, proviamo a spiegarlo... Ammazza che show è il prodotto di un percorso PCTO... ex alternanza scuola lavoro... con i ragazzi e le ragazze di diverse scuole superiori alessandrine... liceo scientifico Galileo Galilei... Alexandria International School... liceo classico Saluzzo Plana... e ITIS Alessandro Volta... le nostre idee hanno potuto trovare forma... grazie all'aiuto di alcune realtà del territorio... dalla strumentazione messa a disposizione... dalla quinta comunicazione... alle strutture degli uffici della diocesi di Alessandria... fino a questo luogo che ci ospita oggi... il Teatro San Francesco... il cui uso è stato possibile... grazie all'omonima associazione... e alla compagnia teatrale Stregatti... studenti delle classi terze, quarte e quinte... si sono messi in gioco... accompagnati da alcuni professori... e da alcuni professionisti del mondo della comunicazione... che hanno collaborato con la diocesi di Alessandria... questa esperienza mi ha dato la possibilità... di relazionarmi maggiormente con gli altri... e anche persone con le quali non avevo a che fare... questa esperienza mi ha fatto capire realmente... cosa si cela dietro la realizzazione di un'intervista... come il tempo impiegato... i numerosi materiali utilizzati... e le molte persone che hanno fornito la loro fondamentale collaborazione... per rispondere ad ogni vostro dubbio... ora vi spiegheremo come ha preso forma la nostra idea... tanti ragazzi e ragazze, tante idee... per organizzare meglio il nostro lavoro ci siamo divisi in diversi gruppi... una squadra fatta di squadre... un lavoro corale che ora speriamo di una vita una bella sinfonia... c'è chi ha pensato alla sceneggiatura... parte fondamentale di uno show che si rispetti... e un lavoro dietro alle quinte che non ci aspettavamo fosse così fondamentale... un altro gruppo è quello degli artisti della scenografia... che sono una vera e propria veste di questo show... una veste giovane che ci faccia sentire a casa... c'è poi chi si è dedicato alla parte di grafica e di comunicazione... uno show non è nulla senza i suoi spettatori... e grazie a loro abbiamo cercato di raggiungere voi... proprio voi che oggi guardate Ammazza che Show... ciascuno ha messo in campo le proprie passioni e le proprie competenze... sia professionali sia relazionali... ma uno show non sarebbe nulla senza le persone che lo fanno... i nostri intervistati... grazie a loro abbiamo incontrato tante belle realtà... significative, vere e profonde... gli adulti che ci hanno aiutato in questo percorso... ci hanno lasciato spazio... aiutandoci a fare sintesi... abbiamo così potuto fare sintesi dai molti punti di vista... dando forma alle nostre idee... passando dal sogno al progetto... e oggi questo progetto lo vedete... uno show interamente realizzato da giovani... giovani che si aprono al mondo... e che vogliono approfondire temi diversi... ora scopriremo cosa ha lasciato questa esperienza... alle persone che l'hanno resa possibile... direi l'arte della creatività nel compromesso... e dell'incontro con persone che ci provano assieme a me... questa per me è stata una vera esperienza... che significa cose belle e anche cose faticose... però qualcosa che mi rimane dentro... perché abbiamo fatto una ricerca comune... imparato cose nuove... ci siamo aiutati... questo è bello... ok Grazie a tutti